Nella notte tra mercoledì e giovedì i gnoti si sono introdotti in un bar di via Fabio Severo forzando probabilmente con una cacciavite una finestra dal legno che dà su via San Francesco dopo aver rovistato un po' ovunque i lari hanno spostato due macchinette videopoker e il cambiamonete nella zona retrostante del bar, qui ne hanno scassinato le aperture e si sono impossessati delle monete contenute e sempre per la cronaca nel pomeriggio di mercoledì personale della questura ha notificato un cittadino rumeno Gigi Questa e i suoi iniziali del 94 il decreto di allontanamento dall'Italia emesso dal prefetto di Ferrara l'uomo è stato raggiunto degli operatori nella sua stanza per sottotel Milano in via Ghega e il rintraccio è stato possibile grazie alla comunicazione che giornalmente i gestori di strutture alberghiere e ricettive devono effettuare l'acquistura, il comunitario avrà tempo 10 giorni per lasciare il paese